Calcio di punizione invitante per lo Spezia. Va Esposito! Esposito! Che gol! Ha raddoppiato lo Spezia! E' festa al picco! 2-0 sul Milan! Anche per lui è il primo gol in serie a team. Arrivato a stagione in corsa. Dalla Spal, grande prospetto del centrocampo italiano. Esposito! Era troppo invitante quel calcio di punizione. Lo batte come voleva batterlo lui. Tocca soltanto Mignon. La palla entra. E' 2-0. E probabilmente sono già partiti i titoli di coda di questa partita del Milan. Perché lo Spezia avanti 2-0. Perché il Milan mentalmente, fisicamente, non c'è mai, non c'è più. E forse non c'è mai stato in questa partita. La festa di Salvatore Esposito classe 2000. La festa della dirigenza dello Spezia in tribuna. Alla prossima! Galiba! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.